La scelta popolare di Marostica, una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. Martedì 31 dicembre, San Silvestro I, è l'ultimo giorno dell'anno. Il sole sorge alle 7.51, tramonta alle 16.40. La luna si leva alle 6.27, tramonta alle 15.58. Solenne consacrazione a Venezia della chiesa di Santa Maria dei Miracoli. Costruita con le elemosine dei fedeli sul luogo dove era esposta un'immagine miracolosa, ne diede il progetto e ne diresse i lavori l'architetto Pietro Lombardo, in collaborazione con i figli. Scrigno prezioso di marmi intarsiati, la chiesa dei Miracoli è uno tra i più lussuosi esempi della rinascenza a Venezia. Gli amici del presepio di Giavera del Montello vi invitano a visitare presso il Tempio Regina Pacis il presepio artistico in movimento con effetti speciali. Dal 24 dicembre al 7 gennaio tutti i giorni, dalle 15.30 alle 19.30. Dal 7 gennaio solo sabato e domenica o su appuntamento. Le previsioni per domani. Cielo inizialmente è in prevalenza soleggiato, salvo transito di nubi alte. Tra pomeriggio e sera aumento di nuvolosità, a partire dai settori sud-occidentali, specie in pianura. Al mattino possibilità di foschie, locali banchi di nebbia e numi bassi nelle valli e sulle zone meridionali della pianura. Precipitazioni assenti, temperature, in pianura in ulteriore leggero calo, congelate diffuse nelle ore più fredde, stazionarie nei fondovalle in lieve aumento in quota, marcata in versione termica fino al primo mattino.